Fondi europei in arrivo 2 miliardi e 3 di euro in sette anni che saranno gestiti direttamente dalla Toscana. A Palazzo del Pegaso l'incontro con le start-up che si sono aggiudicate i primi contributi della nuova legge regionale. Due mesi di appuntamento dall'8 ottobre all'8 dicembre per Palaia Terra di Tartufi, la manifestazione dedicata al re dei boschi. La pioggia di fondi. Nei prossimi sette anni la Toscana avrà 1 miliardo e 229 milioni dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale. 1 miliardo e 83 milioni dal Fondo sociale europeo e 143 milioni di euro da un altro stanziamento dell'Europa, il programma europeo Italia-Francia-Marittimo. È stato il presidente della regione Eugenio Gianni a darne comunicazione al Consiglio regionale. Gianni ha precisato che il percorso della Toscana sostenibile risponde a 5 obiettivi contenuti nel FESRE. Europa più intelligente, Europa più verde, Europa più connesse, Europa più sociale ed Europa più vicina ai cittadini. Due le priorità. La prima gira rapidamente perché dopo un periodo di recessione così profonda che ha segnato le aspettative degli individui e probabilmente ha condizionato la propensione alla rischio degli agenti, anche un breve ritardo può condizionare il futuro sentiero di crescita. La seconda, in combinazione con la prima, è indirizzare la più ampia quota possibile delle risorse europee agli investimenti, nello specifico a quelli in grado di ampliare la base produttiva e in modo da renderla più idonea a catturare nella produzione di beni finali e intermedi tutti gli effetti positivi di ricaduta economica che derivano da una crescita della domanda. Per quanto riguarda il Fondo sociale europeo, le risorse saranno destinate al mercato del lavoro, ai giovani, a incentivare l'inclusione attiva per promuovere le pari opportunità. Non manca il capitolo imprese, alle quali complessivamente andranno più di 500 milioni. Noi ora definiremo bene quelli che sono i progetti, ma abbiamo rispetto a Recovery Fund la certezza che queste sono le quote per le regioni e quindi ce le gestiamo in regione. sul Fesre noi puntiamo molto sui fondi per lo sviluppo, l'investimento, l'adeguamento delle imprese e devo dire che pioveranno sulle imprese in Toscana più di 500 milioni in questi sette anni. Contemporaneamente puntiamo molto sull'altro, il secondo fondo, il Fondo sociale europeo per arrivare a quell'obiettivo che io mi prefiguro, fra un anno o due, di una bella quantità di risorse per garantire alle famiglie che hanno 30, massimo 40 mila euro di reddito annuo, la possibilità dell'asilo gratis per i loro bambini, che vi è in questo Fondo sociale europeo tante risorse per quello che sono i fondi per l'occupazione, le politiche attive del lavoro. Devo dire che poi su quello che riguarda i fondi europei noi metteremo e giocheremo molto nell'infrastrutturazione, soldi per la tramvia, per le piste ciclabili, per mezzi ecologici e vi sarà quel respiro che consente anche da un punto di vista di investimenti infrastrutturali per l'innovazione di avere tante risorse per poter consentire alla pubblica amministrazione di rinnovare quelle che sono le forme di rapporto con il cittadino proprio puntando sulla infrastrutturazione digitale. Nel commentare le parole del presidente Fantozzi di Fratelli d'Italia ha parlato di narrazione generica. Abbiamo ascoltato la grande narrazione del presidente Gianni in aula su un documento che ci è stato presentato la settimana scorsa, un documento che sostanzialmente fa una narrazione molto curiosa della situazione pre-pandemica e soprattutto pre-pandemica in Toscana e su quello sostanzialmente che deve essere il modo superandi per investire nel momento in cui andiamo a ripartire tutti assieme. Ora torneremo in aula a metà di ottobre e Fratelli d'Italia ha intenzione sostanzialmente di rispondere a questo papier presentato oggi dal presidente Gianni con proposte sostanzialmente costruttive capaci di portare un contributo a una narrazione che rimane sostanzialmente fino ad oggi molto generica sui generis. Per Italia Viva si tratta di risorse fondamentali per permettere alla Toscana di fare uno scatto in avanti. Riteniamo che i fondi comunitari siano la forza del nostro agire, le risorse comunitarie certe queste sono sicure, dobbiamo programmarle, dobbiamo creare sviluppo, lavoro, consentire ai territori periferici di avere nuove opportunità, consentire alle grandi città di diventare città di carattere europeo, ma soprattutto tenere fede ai nostri impegni rispetto ai giovani, rispetto agli anziani, rispetto al sociale, rispetto agli impegni culturali. Dobbiamo fare una Toscana che anche nella svolta ambientale sia protagonista a livello europeo, con queste risorse faccia uno scatto in avanti, richiamo di queste ore anche della richiesta dei giovani di avere più ambiente, una Toscana più innovativa e poi soprattutto infrastrutture e lavoro credo che siano i cardini dell'allocazione di queste risorse. Quindi noi ci batteremo in questi anni per allocare queste risorse nel modo più congruo e utile per la Toscana. Per Galli della Lega tema cardine è quello delle infrastrutture. Tanto sono arrivati tanti soldi che dalla comunicazione del Presidente andranno a sostegno. Io credo che è vero e giusto che si debba sostenere le imprese, le aziende, è nostro dovere, ma è anche nostro dovere indicare dove la Toscana vuole arrivare. Perché non basta, secondo il mio punto di vista, dare il sostegno alle aziende se poi dopo non investiamo nelle grandi infrastrutture che permettono alla Toscana di tornare ad essere organica. Adesso abbiamo una macro area che è quella che viaggia intorno all'Arno e abbiamo un'altra area importantissima da sviluppare che è quella della costa e che non è assolutamente presa in considerazione. Abbiamo dei porti, aeroporti, interporti che devono essere collegati alla macro area di Firenze e poi dopo partire e andare verso il nord dell'Italia e verso il centro dell'Europa dove c'è la vera economia. Ecco noi in questo momento l'intervento che è stato fatto dal Presidente è stato un intervento per continuare a galleggiare. La Toscana non ha bisogno di galleggiare, la Toscana ha talmente tante risorse che ha bisogno di tornare ad essere, ad elevarsi a regione guida perché questo è quello che noi abbiamo all'interno della Toscana. Il sostegno alle start-up Trasformare le sollecitazioni che arrivano in soluzioni. Abbiamo voluto questa giornata di ascolto per dire alle piccole imprese dell'innovazione che le istituzioni sono al loro fianco, dobbiamo essere al fianco di chiunque vuole fare imprese e scommettere sul futuro. Così il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo si è espresso in occasione del convegno che si è tenuto nell'auditorium del Palazzo del Pegaso a un anno e mezzo dall'approvazione della nuova legge a sostegno alle imprese start-up innovative. Il Presidente e l'Assessore regionale all'attività produttiva, Leonardo Marras, hanno incontrato le start-up che si sono aggiudicate il primo bando della nuova legge e sono state assegnatari dei contributi. 37 progetti ammessi con 1.750.000 euro di risorse erogate. Credo che ciascuno di noi debba continuare a mandare un messaggio forte come istituzioni che noi siamo al fianco di chi vuole scommettere su costruire nuovo lavoro, nuova occupazione. Abbiamo ascoltato anche tante cose che possono essere migliorate, però nelle parole delle ragazze e dei ragazzi, da quelli più giovani a chi ha più esperienza, c'è l'idea di questa Toscana, della nostra Toscana, una Toscana che vuole scommettere sul futuro, che vuole scommettere sull'impresa, sul lavoro di qualità. A noi il compito di sostenerli. Il messaggio voluto mandare è esattamente lo stesso che nel febbraio 2020 all'approvazione della legge, dissi con chiarezza, noi dobbiamo essere al fianco di chiunque vuole fare impresa e vuole scommettere sul proprio futuro. Penso che il modo migliore sia quello di sostenere le imprese nella loro crescita. Dall'inizio, quando sono nella fase davvero di ricerca dei primi finanziamenti e qui c'erano 30 imprese che hanno ricevuto il sostegno di circa 50 mila euro da parte di Regione Toscana con la legge sull'innovazione, ma anche aiutarli alla ricerca di Venture Cup. Con i prossimi fondi strutturali avremo le risorse per sostenere e anche entrare nel capitale di rischio delle imprese con quel modello chiamato di pari passo, cioè se un investitore privato investe 100 o la Regione fa altrettanto all'interno delle imprese, dobbiamo lavorare molto sulla semplificazione. Loro devono pensare a costruire il business, a trasformare la ricerca in valore e meno le questioni amministrative perché non hanno neanche le competenze al proprio interno e poi incentivare ancora con più forza la figura del temporary manager. Le aziende, quelle più piccole, hanno bisogno di alcune competenze che forse non hanno al loro interno e noi dobbiamo sostenerli mettendo a disposizione coloro i quali possono aiutare a crescere e a cercare mercato. Tra le start-up toscane che si sono aggiudicate i contributi del primo bando, Società per la Medicina Rigenerativa di Precisione, con l'obiettivo di aiutare la presa in carico del paziente per patologie croniche degenerative, per la creazione di sofisticate macchine per la stampa 3D, in particolare per il metallo, per sviluppare competenze informatiche di direzione e gestione aziendale, per fornire competenze di elettronica avanzata con soluzioni al servizio dei processi e dei macchinari per introdurre innovazione tecnologica nell'edilizia, aziende impegnate nello sviluppo di un gioco elettronico innovativo con funzioni didattiche, software e hardware per insegnare a bambini nelle scuole o nel settore agrotech per ottimizzare il processo produttivo di piante, oppure nella creazione di un riproduttore musicale in alta qualità per produrre il miglior lettore musicale al mondo. Dopo aver realizzato il primo prototipo ci aspettiamo un ulteriore supporto per il lancio sul mercato dei macchinari stessi. In particolare infatti Ryzen SRL realizza stampanti 3D per il settore delle leghe preziose e della realizzazione di stampi in acciaio. È una tecnologia molto particolare, abbiamo tre brevetti e di conseguenza anche la realizzazione di questi macchinari ha un suo peso economico ed è fondamentale in questo ricevere possibilmente appunto appoggio dalla regione. Abbiamo presentato un progetto backbone che si propone di creare una piattaforma per l'onboarding e per la messa a disposizione delle aziende di competenze e modi nei tempi corretti per lo sviluppo dei progetti e appunto abbiamo ottenuto questo finanziamento della regione toscana. Stiamo andando avanti col progetto, è quasi in conclusione e pensiamo di metterlo sul mercato all'inizio del prossimo anno. La nostra idea, che è un'idea brevettata, è quella di inseguire la crescita delle piante, cioè le piante quando vengono seminate non hanno bisogno di un grosso volume di condizionamento e quindi questa serra cresce insieme con la pianta. Noi l'abbiamo chiamata serra adattiva o adattativa perché si adatta alle necessità delle piante. Le piante crescendo hanno bisogno di un volume maggiore e questo volume viene condizionato in maniera crescente. Questo cosa porta? Porta a un enorme risparmio di energia perché ovviamente una serra può contenere migliaia di metri cubi di aria che devono essere condizionata, mentre in un contesto adattivo la serra insegue la crescita della pianta e quindi vi sono anche due o tre ordini di grandezza in meno di volume da condizionare. Abbiamo cominciato a ragionare con Talessa Legna Space, che è l'azienda che tutti sappiamo fabbrica i moduli della stazione spaziale, ma fabbrica sostanzialmente i moduli intesi come involucro. Noi adesso cerchiamo di entrare anche nei sistemi di supporto alla vita. e quindi per così dire di arredare questi moduli, non soltanto il guscio come potrebbe essere lo scafo di una nave, ma anche gli arredi all'interno che poi finiscono per essere anche forse un valore aggiunto più grande dello scafo stesso. Questo è il nostro challenge sul quale naturalmente abbiamo tutte le difficoltà delle start-up, ma speriamo di riuscire. Tra l'altro le regioni che hanno capito il messaggio delle start-up che hanno delle idee brillanti proiettate nel futuro e che tra l'altro ci consentiranno poi a terra di riportare queste tecnologie per fare risparmio energetico, risparmio di acqua, buon riciclo dei rifiuti eccetera eccetera, ci aiuteranno e noi saremo contenti di andare avanti. I buoni effetti della legge si sono visti, dicono gli imprenditori, non solo under 30 intervenuti. Quello che chiedono ora sono gli strumenti per assicurare un sostegno più prolungato nel tempo alle start-up, per favorire l'acquisizione di fondi sul mercato e il rapporto col finanziamento privato, lo sviluppo di competenze e gli investimenti. Sul fronte amministrativo si chiede di semplificare le procedure, alleggerendo il sistema troppo complicato della rendicontazione e accelerare i pagamenti. A Palaia si celebra il tartufo. Il territorio palaiese, da sempre evocato alla ricerca e alla raccolta del tartufo, dedica la stagione autunnale alla celebrazione del re dei boschi. Palaia, terra di tartufi, è la manifestazione ricca di eventi che si apre l'8 ottobre con la 35esima edizione della mostra mercato del tartufo e del fungo porcino di Forcoli. L'evento ormai tradizionale si svolge dal 1986 e accoglie centinaia di visitatori negli spazi del centro sportivo Nova Primavera. Quest'anno si partirà con una scena di gala e con la premiazione del tartufo d'oro, consegnato dal sindaco Marco Gherardini alla consulta del volontariato del comune di Palaia per l'impegno profuso durante l'emergenza Covid. 8, 9 e 10 ottobre è il tempo del tartufo a Forcoli e a Palaia. Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con la mostra mercato del tartufo e del fungo porcino. Come sempre aspettiamo tante persone a Forcoli per la tradizionale mostra mercato dove all'insegna dell'accoglienza vogliamo valorizzare il nostro territorio con il re del bosco, il re della tavola che arricchisce le nostre colline. E quest'anno una grande novità perché la mostra mercato andrà di fatto avanti per due mesi con una serie di iniziative, di appuntamenti, di scene, di esperienze che dall'8 ottobre all'8 dicembre arricchiscono il nostro calendario degli eventi con iniziative su tutto il territorio comunale a Palaia. Quindi un grande ringraziamento all'associazione Nuova Primavera che conferma con la 35esima edizione la mostra mercato del tartufo e a tutto il centro commerciale naturale di Palaia, i nostri ristoratori che hanno aderito in modo generoso e con entusiasmo per fare una due mesi del tartufo di Palaia. Palaia per davvero terra di tartufi all'insegna delle eccellenze locali. La mostra mercato andrà di fatto avanti per due mesi con una serie di iniziative che dall'8 ottobre all'8 dicembre arricchiscono il calendario degli eventi su tutto il territorio comunale. Palaia terra di tartufi è una kermesse gastronomica che vede il coinvolgimento di ristoratori, produttori e delle molte realtà turistiche palaiesi con una serie di appuntamenti settimanali all'insegna del gusto e alla scoperta del bosco. Verranno proposte attività, esperienze e menù dedicati non solo al pregiato tartufo ma anche alle eccellenze locali come vino, olio extravergine di oliva, funghi porcini, liquore e distillate alta norcineria. Ad arricchire la rassegna domenica 5 dicembre in piazza del mercato a Palaia doppio appuntamento con la mostra mercato anche questa dedicata al tartufo con degustazione e vendita dei prodotti tipici. Tutti gli eventi in programma prevedono una prenotazione direttamente alla struttura e saranno realizzati nel rispetto di tutte le norme anticontagio.